Una testimonial d'eccezione per una nuova iniziativa degli Azzurri d'Italia, un invito ai messinesi a trascorrere un sabato sera differente. Sì, ce ne dovrebbero essere anche altri, sicuramente è una bellissima iniziativa fatta da questa associazione, in più perché diventa benefica e quindi questo è un punto a nostro favore probabilmente. Io spero che ci sia una grande affluenza da parte di tutti. Un'associazione che punta anche a intitolare una struttura sportiva oppure qualche via cittadina proprio ai tanti messinesi che hanno vinto fuori e che purtroppo paradossalmente nella loro città sono stati un po' trascurati. Sì, questo purtroppo è la pecca di tutti quelli che magari hanno la passione per uno sport minore e quindi alla fine vengono purtroppo inevitabilmente trascurati. Speriamo appunto che riusciremo un giorno anche una via, una piazza, perché una struttura sportiva, perché no, di qualsiasi tipo sarebbe sicuramente un ottimo obiettivo. Per conquistare i risultati di rilieve, mi viene da pensare a te, oppure attualmente a Nibali, è obbligatorio emigrare? È obbligatorio andare fuori? Ci vuole tanta forza di volontà. Emigrare purtroppo per noi è stato necessario, come per me, per Valerio, per tanti. Probabilmente lo è e spero che in futuro non lo sarà più, perché magari daremo la possibilità ai nostri piccoli giovani di crescere anche qui e di andare avanti. Grazie a tutti.